Tra Italia e Germania, sfida alpinistica, eravamo alleati con i tedeschi ma c'era una grande divisione per chi conquistava più vie nelle montagne e nelle Alpi e qui c'è stata una sfida più grande delle altre, c'era un problema irrisolvibile, la cima a ovest di Lavaredo, la parete nord, una parete strapiombante che aveva respinto perché c'era un traverso, tecnicamente si chiama così, a un certo punto si saliva lungo uno spigolo, poi bisognava attraversare per molte decine di metri e per poi risalire nella parte centrale della parete, ma non si sapeva se dopo lo spigolo si poteva salire e dallo spigolo non si poteva tornare indietro. Così fino al 1935 27 cordate, le più forti cordate europee, tedeschi in primo piano ma anche italiani, comici, i fratelli di Mai, Demetz e molte cordate fortissime tentavano inutilmente, arrivati al traverso rinunciavano e tornavano indietro perché oltre c'era l'ignoto. Nell'agosto del 1935 Riccardo Cassin, Vittorio Ratti e gli altri ragazzi del manipolo rocciatori di Lecco, finiscono le vacanze che sempre facevano in montagna e tornano a casa. Quando tornano a Lecco scoprono che una cordata tedesca di due tedeschi, Hans Intermeier e Sepp Meindl, sono ai piedi della parete nord della ovest di Lavaredo perché vogliono tentarla. È una cordata di giovani, è una cordata molto forte e allora arriva l'ordine. Cassin deve prendere delle altre ferie, gli fanno dare un permesso dalla fabbrica e insieme a Vittorio Ratti, probabilmente in quel momento la più forte cordata del mondo, ritornano qui, ma i tedeschi sono attendati sotto la parete. Per cui Cassin e Ratti vengono la sera tardi del giorno prima, verso la fine di agosto, al buio per vedere dov'è l'attacco perché loro non lo sapevano e ritornano poi il giorno successivo passando sopra la tenda dei tedeschi che erano scesi nel piano per stare un po' più comodi e cominciano a salire. Quando i tedeschi si svegliano vedono che la cordata italiana è già parecchio su, corrono per cercare di raggiungerli e quando arrivano alla base della parete capiscono che ormai o anche questi torneranno indietro o altrimenti la parete è persa. Sono dei signori autentici perché un amico che aveva accompagnato Cassin e Ratti era fermo alla base della parete e loro decidono di ospitarlo nella loro tenda. E quando con un'impresa veramente epica superano il famoso traverso e salgono nello ignoto che non era più ignoto da quel momento lì e dopo due bivacchi, praticamente tre giorni di arrampicata arrivano in vetta, quando scendono dalla via normale in fondo ci sono i tedeschi e l'amico lecchese che li fotografano tutti insieme. I tedeschi faranno il giorno dopo la prima ripetizione. La cosa straordinaria quella è una foto storica molto famosa che ci sono Meindl, Ratti, Cassin e Intermeier. I due tedeschi siano messi ai lati dei vincitori, mettiamoci le virgolette perché vincitori della montagna è una cosa che non piace neanche agli alpinisti, non piace neanche a me e la guerra porterà via metà della fotografia. Meindl morirà attraversando un fiume in Russia mitragliato dai soldati dell'armata rossa e Vittorio Ratti morirà durante la liberazione di Lecco come partigiano ucciso da una raffica fascista. L'alpinismo è un agonismo verso se stessi in realtà, mai verso la parete, anzi la parete è normalmente amata dall'alpinista che ne ha tratto, però è la sfida contro se stessi, infatti il bello dell'alpinismo è conoscere bene i propri limiti, conoscere i propri limiti, non superarli e come diceva il vecchio Cassin che non a caso è arrivato a superare i 100 anni, nella montagna bisogna avere paura, un po' di paura, perché la paura è l'anticamera della prudenza. Riccardo era un curioso e aveva saltato la generazione di quelli che io chiamo i reducisti, quelli che dicono ai miei tempi, i giovani di oggi, tutte queste cose qui. Riccardo era sempre aperto alle novità, addirittura mi ricordo che quando hanno cominciato a usare i friends e i nuts per arampicare, lui diceva, però proviamoli, prima di contestarli proviamoli e dopo averli provati ha detto, devo dire che rendono la vita più facile, poi lui non li avrebbe probabilmente mai usati, ma non ha criticato. Ricordiamoci un particolare, non secondario, la prima gara di arrampicata, gara vera, di arrampicata sportiva che si è fatta a parete dei milit in Piemonte, tra i giudici di gara c'era Riccardo Cassin, l'unico alpinista scritto tutto in maiuscolo che aveva accettato di fare una cosa del genere. Riccardo Cassin diceva che in montagna non si deve mai risparmiare su? Sull'attrezzatura che deve essere sempre all'altezza e commisurata a quello che si deve fare e magari se è possibile sulle comodità che alla sua epoca voleva dire per esempio la differenza tra dormire in un rifugio e dormire sul tavolato invernale e lui l'ha vissuto non direttamente sulla sua pelle, ma sulla pelle di due ragazzi che poi siano legati alla sua cordata al pizzo badile, perché bisogna affrontare la montagna nella miglior forma fisica possibile e per essere la miglior forma fisica possibile significa anche per dire riposare il meglio possibile. Tra le varie sue imprese il coronamento che chiude il cosiddetto trittico, perché c'erano alcuni grandi problemi da risolvere nelle Alpi ed erano questi due che ho appena citato, più la parete nord dell'Aiger e la parete nord dello Sperone Walker sulle Grange Horace e Cassin che tenta di andare a fare la nord dell'Aiger quando arriva ai piedi della nord dell'Aiger e capisce che la cordata che c'è su probabilmente l'avrebbe vinta, metto di virgolette ancora, e lui corre a fare lo Sperone Walker sulla nord della Grange Horace e chiude il suo trittico, non chiude la sua carriera alpinistica perché stiamo parlando del 1938 e lui ha arrampicato fin quando le gambe lo hanno tenuto in piedi, quindi fino a quasi alle soglie dei 90 anni. Arrampicare fa bene visto che è arrivato a più di 100 anni. E a Cipicchia, siamo andati insieme in Canada a trovare la tomba di suo papà quando era 1998, quindi aveva 89 anni e ancora mi portava in giro nei boschi per fotografare gli alci e i cervi, si avvicinava con la macchina fotografica e io ero un po' preoccupato, mi dico se questo parte di scatto Riccardo non hai l'agilità per tirarti via e lui mi risponde perché il De Parti perché deve partire e andava a mezzo metro a fare le foto delle facce di questi animali stupendi e giro nei boschi canadesi come un ragazzo con lo stesso entusiasmo.